Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Razer Kishi, che è un pad per Android ed è l'inizio della nostra... il primo prodotto fornito dalla Razer e l'inizio della nostra collaborazione, che io ringrazio da morire alla Razer per averci offerto questa opportunità e grazie ragazzi. Cioè, è un onore disumano, come vi ho detto, anche per mail, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. RASER KISHI Come vi avevo introdotto, il Razer Kishi è un controller da gaming universale per Android. Prima di iniziare, c'è anche da dire la giusta premessa, che non è per tutti tutti gli Android, tanto comunque poi vi faccio vedere l'unboxing e vi faccio anche vedere direttamente come funziona. Infatti, è compatibile con gli Android 8.0 Oreo, ovviamente se no modelli superiori. Sicuramente ne avrete visti di cotte e crude, perché ha tanti competitor la Razer, su un prodotto del genere avrete visto tanti gamepad per punto Android simile a questo qui, che magari, poi vi dirò tutto alla fine, con un prezzo minore o un prezzo maggiore. Ma la cosa bella di questo gamepad qui è la latenza, perché anche un amico mio, onestamente, mi ha detto, bello, bello, quando l'ha vista e tutto quanto, no? Gli ho raccontato che mi era arrivato il prodotto e stavo facendo delle prove sul campo. Lui mi ha detto, la prima domanda, la prima, mi ha detto, ma la latenza risponde veloce, perché tanti pad, anche a volte più economici o di altre marche, quando magari muovi gli analogici, magari c'è un piccolo ritardo. E soprattutto, in giochi online, concedetemelo, come Call of Duty, Fortnite, o giochi competitivi, il ritardo di una frazione di seconda è la morte. Questo no, latenza zero. Come toccate la levetta, subito si muove, e infatti è uno spettacolo assurdo e ti rivoluziona anche il modo di giocare, ragazzi, perché non è più un touchscreen del telefono, ma vi diventa una specie di piccola switch fra le mani del telefono. E veramente è una sala giochi in mano. Ora ve ne parlo meglio, ovviamente, aprendovi il prodotto, ve lo faccio vedere da vicino e poi vi faccio vedere su cosa lo abbiamo provato, ma essendo un amante degli arcade degli anni Ottanta, ve lo potete immaginare. Unboxing, la scatolina, piccolina rispetto alla mano, ed è molto bellina ed accattivante, ovviamente, il logo della Razer, Razer Kishi, e come vedete è un sistema da gaming, un controller da gaming universale per tutti quanti gli Android, ve l'ho detto però, da che modello in su? Quindi prima comunque controllate. È veramente ben fatto, mi piace molto come prodotto e anche ergonomico, vi devo dire la verità. Apriamo. Cos'è che vi salta subito all'occhio? Sembra un pad dell'Xbox One. Infatti vedete tutti quanti i tasti Y, B, A e X. Poi ovviamente ci sono le freccette analogiche, il Select, lo Start, il tasto Home e poi gli analogici, le levettine. Quindi vedete, anche per giocare agli sparatute e cose del genere, è una figata. E in più, analogici, cliccabili. Quindi direttamente si possono anche cliccare. È un pad, ragazzi, veramente della Madonna. Acqua sui cima, i grilletti, L1, L2, R1 ed R2. È proprio veramente il pad della Xbox, quindi vi ci troverete veramente bene. Ora vi faccio vedere come si apre. Tirando queste due levettine, si sposta la placchettina, ve l'ho detto, di blocco che c'è dietro in plastica e si allarga e vedete ha due fascettine qui che li tengano attaccati e poi sono elastiche. Sono elastiche, quindi le andate direttamente ad attaccare al vostro Android. Vedete che qua giù c'è una porta di tipo C, una qua e una invece qua sotto. Voi andate direttamente ad attaccarci il vostro telefono, il vostro Android e deve fare un leggero scattino. A questo punto vedete che è attaccato alla porta C. Andate di qua leggermente ad allargare con le fascette fino a che il vostro telefono non c'entra completamente. E a questo punto è attaccato. In questa porta qua sotto serve unicamente per ricaricare il telefono. Quindi ci attaccate il caricabatterie, non prende cuffie, non prende cose del genere. Solo esclusivamente il caricabatterie. Se avete bisogno di ricaricarlo, di tenerlo collegato alla corrente, attaccate direttamente qua sotto. E a questo punto il Kishi è collegato al vostro telefono. Intanto qui si vede che sta facendo il caricamento e stiamo provando un gioco Survival Zombie. E vedete ora, le mani sono quelle di mia moglie che sta giocando. E vedete tranquillamente il controller come si comporta e come funziona. Soprattutto la cosa più importante di questo Kishi è la latenza. Se cercate un pad per giocare competitivi online dal telefono, ragazzi, è perfetto. Vi migliora le prestazioni, vi migliora tutto quanto. Ve l'ho detto, gli analogici addirittura cliccabili. E guardate la latenza, come sta muovendo e come reagisce il gioco. Se cercate davvero di giocare competitivi, meglio di questo, secondo me, sul mercato non esiste assolutamente. Ragazzi, è un gioiellino ed è veramente una figata a sud. Immaginatevi di andare a giocare competitivi online, appunto anche su Fortnite, come vi divertirete. E poi, andando su classici dell'epoca, come non provarlo subito col miglior picchiaduro della storia di videogiochi, Street Fighter. Ovviamente Street Fighter 2, perché noi siamo puristi. E guardate un po', ragazzi, come si muove e soprattutto come reagisce con un gioco picchiaduro, che è la prova del 9, per davvero. Ragazzi, insomma, giudicate voi, da quello che state vedendo, non c'è trucco, non c'è inganno. Questo è il Razer Kishi, guardate che spettacolo. Siamo tornati veramente ai tempi dei coin-op, degli arcade, ed è tutta un'altra cosa. È un piacere disumano giocare con un pad del genere. Aspetta, aspetta, aspetta un attimino, fammi finire la partita qui a Street Fighter. Aspetta, aspetta, ora si fa la chiusura, un attimino, sono troppo preso. Ho capito, ma qui bisogna farla chiusura. È troppo bello, è troppo bello, aspetta un attimino. A duke, a duke. E questo, in conclusione, è il Razer Kishi, che mi ci sto sfondando. Mi ha fatto dimenticare il computer, mi ha fatto dimenticare i tanti impegni che ho, che stanno un po' ritardando. Sarà meglio che lo stacchi e lo rimetta dentro. Ragazzi, è una figata unica. Come spesa si va intorno al centinaio d'euro, 90, 100, qualcosa del genere. Trovate il link in descrizione per ordinarlo direttamente dal sito della Razer, che io ringrazio di cuore per averci offerto questa copia per fare appunto la recensione. Grazie di cuore, è un prodotto bellissimo, che tra l'altro volevamo da tanto tempo, ed è un prodotto per tutti, eh, dall'A alla Z. Io non sono un giocatore competitivo, però mi ha fatto venire voglia di giocare anche con l'Android, cosa che fino ad ora, cortace screen, mi era passata, ve lo dico onestamente. Però per giocatori competitivi è la perfezione. L'avete visto, ritardo non c'è, delay non c'è, assolutamente ergonomico, addirittura anche gli analogici cliccabili del pad dell'Xbox One. Quindi è veramente una figata assurda e grazie ancora alla Razer. Ragazzi, primo link in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate, è un gioiello, veramente vi fa tornare la voglia, o ve la fa, non tanto tornare, ve la fa proprio arrivare dritta tra le mani, perché a questo punto qui vi divertirete a giocare molto di più, invece che andare con un touchscreen che io non riuscivo nemmeno a giocarci a Final Fight. Figuriamoci un picchiaduro come Street Fighter. Ciao ragazzi, alla prossima!